Nel 2015, nei pressi della Pieve di Sant'Andrea a Doccia, l'Associazione Culturale Il Paese sulla Collina Sara Cerrini ha realizzato un orto botanico unico nel suo genere. Grazie al supporto del Museo di Storia Naturale di Firenze, il piccolo spazio verde di Doccia racchiude al suo interno le specie e le tipicità erbacee della Val di Sieve. La vera attrazione dell'orto botanico è però la Juola di Hildegarda di Bingen, religiosa e naturalista tedesca vissuta nel 1100 e venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. Uno dei pochi esemplari in Italia, la Juola di Bingen segue il concetto di Viriditas di Hildegarda, configurandosi come spazio dedicato alle piante aromatiche, utili sia come medicine per il corpo che per l'anima e la riflessione. Il tratto maggiormente caratterizzante dell'Ajuola è la sua tipica forma spirale, volta a simbolizzare la tensione verso il cielo e verso Dio.